C'è anche il Carlo, ma il Carlo non sa di avere suonato quella canzone. Come è potuto succedere? Ma perché? Cioè, Cold Inside è, secondo me, la dimostrazione che le coincidenze a volte esistono e che il caso a volte esiste. Cosa succede? Giorni della merla. Per chi non conosce i giorni della merla, i giorni più freddi dell'anno. Oppure potete sostituire una consonante e il risultato è più o meno lo stesso. E infatti io mi aspettavo di cese quello, invece... Non si può dire! Siamo family friendly! Sono quei giorni in cui fa un freddo becco. Cosa succede in quei giorni a casa mia? Si rompe la caldaia. È pazzesco, bellissimo. Un freddo che non vi dico. Mi armo di santa pazienza, prendo una delle mie tastiere che è nel mio covo, dove tengo tutte le tastiere, nel mio bunker, dove tengo tutte le tastiere, me la porto in camera, accendo la pompa di calore e inizio a suonarmela un po'. E decido nel frattempo di tenere il telefono acceso, il registratore del telefono acceso, perché dico non si sa mai. Finisco questa suonata e la risento e dico cavolo, è una bella atmosfera quella che si è creata. Vabbè, la giro ai ragazzi. Inizio ad ascoltare il pezzo, dopo 30 secondi stoppo e dico, Ehi, io questo pezzo l'ho già scritto. Era marzo 2018, ovviamente i giorni della merla a cui si riferiva il nostro buon Teo erano inizio 2019, quindi circa un anno prima, era un mercoledì, non mi ricordo esattamente il giorno, però era un mercoledì perché facevo lezione. arrivo in anticipo, come al solito, aspetto l'allieva che era in ritardo e quindi decido di scrivere un testo che mi girava in testa da un po'. Scrivo sto testo, lo piazzo lì nelle bozze che tanto torna sempre utile e un anno dopo arriva il pezzo scritto da Teo, che non aveva mai sentito quel testo. Anzi, ero in preda a lasciam perdere, cioè con la caldaglia rotta, un freddo pazzesco. E quindi, magia. Parte questo pezzo che era scritto perfettamente, in sincro. Registro una bozza veloce, lo mando ai ragazzi, ai tempi c'erano già circa 12 pezzi, perché c'erano le nostre bozze da registrare. Si aggiunge il tredicesimo pezzo, che è poi stato registrato in live come ultimo live, ultimo video. Giornata video è stata una giornata molto particolare, iniziata nella maniera peggiore possibile, credo, si può dire? Sì. Bene, quando ti svegli, ti chiama la tua cantante e ti dice guarda, sto arrivando ma ho un problema, mi sono ribaltata in un fosso. Capisci che la giornata non comincia molto bene. Quindi, dopo una fase di briefing, questo video è stato pensato in un ospedale? No, vabbè, non è stato pensato in un ospedale. Possiamo dire che è stato concepito in pronto soccorso. Vedi, sicuro ci siamo andati? No, allora, in realtà il video l'avevamo deciso già mesi prima, però diciamo che dicembre è un po' come un rush finale dell'anno, quindi era pieno di impegni, Teo poteva solo quel giorno, io ero sempre di corsa, quindi insomma incastrare, poi tu avevi il centro invernale, quindi insomma incastrare gli impegni è sempre difficile, quel giorno lì era l'unico giorno disponibile. E io tra l'altro mi sono svegliata che già sapevo che non sarebbe andata bene, perché me lo sentivo, mi sono svegliata in ritardo, per fortuna ho fatto quella rotonda piano, perché se fossi andata forte, prendendo ulteriormente velocità nel ghiaccio, cioè sul ghiaccio, forse non sarei neanche qui, insomma è un po' andata così, solo che tipo a un certo punto mi sono ritrovata a fare un 180 con la macchina e poi mi sono ritrovata così. E in tutto questo la mia preoccupazione era che ero già in ritardo, quindi io dovevo andare a Milano per fare il video ed eravamo in ritardo, e niente, alla fine due ore e un quarto in pronto soccorso e più mezz'ora per convincermi ad andare in pronto soccorso, perché non volevo, e per risparmiare tempo, però alla fine insomma, il trauma cranico non piace a nessuno, quindi prevenire è meglio che curare. due ore e un quarto in pronto soccorso, McDonald's fino alle 5 per riprendersi, insomma per tirarsi su di morale. Insomma prima delle 6 di pomeriggio. Noi prima delle 6 di pomeriggio non lavoriamo, il problema è che l'appuntamento era tipo fai, non lo so, alle 2, ma anche prima forse. Noi ci becchiamo sempre a pranzo. E così, morale abbiamo iniziato a girare alle 7 di sera? No, erano tipo le 6 e un quarto, 6 e mezza. Così, in questo video ci sono, secondo me, due sorprese interessanti. La prima è che vogliamo sapere, secondo voi, quante telecamere ci sono in quel video. Provate a contarle e scrivetecelo nei commenti. Io lo so. Per forza lo sai. Per forza lo hai fatto tu. La seconda sorpresa è nella versione studio di quel pezzo, che trovate su Spotify, su tutte le piattaforme digitali, e anche su YouTube, ma nella playlist 58 audio. È una versione un pochino diversa da quella che si vede nel video live. E in questa versione c'è una sorpresa. Perché nel video live l'abbiamo suonata io e la Gio. Nell'audio c'è anche il Carlo, ma il Carlo non sa di avere suonato quella canzone. Come è potuto succedere? Se seguite questa serie, saprete che io sono appassionato di... Campionamento! E quindi ho preso la chitarra di un altro pezzo nostro, suonata dal Carlo, e casualmente, questo ti dice che veramente il caso esiste, sta perfettamente su questo pezzo. quindi noi vi sfidiamo anche a capire da dove può venire quella chitarra. Scrivetelo sotto nei commenti. Fateci... Il vincitore cosa vince? Vince... Manca la cena con te! Ah, ecco, una cena con me, dove vi spacherò i maroni su tutte le tastiere possibili, immaginabili, tutti i campionamenti, e tutti gli artisti più strani possibili. Questa è la dimostrazione che il caso esiste, quindi andatevi ad ascoltare Cold Inside, sia in una versione che nell'altra, versione audio, versione video, Spotify, YouTube, e già che ci siete, un bel like, seguiteci su Facebook, su Instagram, dove volete, lasciate un commento, iscrivetevi al canale YouTube. Mi siete iscritti al canale dopo la mia chiusa dell'ultimo video? Voglio farlo un chio, però. Avete fatto male. Avete visto? Eh? Voglio proprio vedere il grafico del picco di... L'incremento di ascolti dopo la mia chiusa. Molti di voi guardano i nostri video ma non sono iscritti. Probabilmente sono invecchiati di due anni. È proprio così. Sì. No, perché c'ho questa Roland che... Non possiamo dire Roland a YouTube? C'ho questa. No, perché c'ho questa, è il mio cugino. Intendeva dire che era mio cugino. Però in realtà la questione... Safety first. Ah, quindi possiamo dire i nomi... Che non esistono. Ah, ok. Tipo dinosauro? Eh, vabbè, questa è la dimostrazione. Dipende che modello.